Ciao a tutti e benvenuti in questo video dove vorrei presentarvi questo vestitino che è abbastanza difficile farlo entrare tutto nell'inquadratura però dai cercherò in qualche maniera così di farlo vedere più o meno anche perché poi ho messo parecchie foto su instagram anche qui nei post community e quindi poi dai se mi fosse venuto brutto chiaro non l'avrei messo nel canale quindi è superfluo dire che a me piace e piace tantissimo e quindi mi è piaciuto adesso condividere l'idea con tutti voi ok l'idea è nata necessariamente dal corpetto quindi da questa parte iniziale qua su perché volevo fare la scollatura V e va bene che non c'era un vestitino così sul canale e inoltre mi piace molto questo punto, questo punto qua del corpetto l'avevo provato in giro di andata e ritorno mi era piaciuto e quindi ho detto ok si ci faccio un corpetto per un vestitino poi successivamente le cose si sono diciamo evolute man mano nel senso non avevo fin dall'inizio le idee chiare su ciò che dovevo fare proprio tutto quanto necessariamente volevo fare la scollatura V e il punto poi ok è venuta la connina in cui ho deciso di mettere va bene il passanastro col nastrino e poi la lavorazione granny per alleggerire un attimo il tutto perché queste bimbette non è che a queste bimbe insomma possiamo mettere vestiti molto pesanti visto che è caldo e in più anche sono piccoline infatti l'età di questo vestito è per circa un anno pesa circa 130 grammi infatti uno di questi gomitori infatti non è bastato è da 50 grammi ce ne sono voluti due in più vedete il terzo quasi quasi c'è quasi tutto quindi ok vabbè ci si farà qualche altra cosa comunque ripeto non bastano 100 grammi inoltre il pizzo sangallo pesa pochissimo quindi quei 30 20 30 grammi assolutamente non sono il pizzo sangallo ci vuole più di 100 ci vogliono un pochino più di 100 grammi di filato comunque l'uncinetto è il numero 2 ma lo dirò anche successivamente nel video l'ho già visto perché l'ho girato insomma prima quindi mi sono segnate queste cose allora tutta la lunghezza è 46 centimetri il corpetto cioè questa parte misura 16 centimetri va bene fate la differenza quindi tra cunna e tutta la lunghezza poi alla vita la larghezza della vita qua dove l'ho stretta è 28 centimetri ma la gonna è 34 qua su quindi più o meno qua sarà un 32 centimetri senza il nastrino e qua giù arriva a 44 qui alla fine quindi perché qua ho messo parecchi aumenti no e quindi si allarga bene e le spalle quindi da qui a qui 30 centimetri la manica il pizzo sangallo necessariamente 4 centimetri la larghezza della scollatura è 10 centimetri e qualcosa quasi 11 la profondità è 12 centimetri fin qui qui ci sono due bottoncini ok quindi si apre tutto la testa della bimba qua entra benissimo ok e poi ne ho aperto uno soltanto e va bene io direi che non vi devo dire nient'altro perché vi ho detto queste misure l'età i materiali io direi di iniziare subito perché poi vi rendete conto no poi prendete le misure alle bimbe vi rendete conto se ne avete fatti anche altri visto che ormai sul canale ne ho presentati un bel po no quindi magari vedete insomma in base a quelli agli altri che ho fatto se ne avete fatto qualcuno dei miei diciamo più o meno per quest'età io li faccio tutti tutti così è chiaro con l'uncinetto numero 2 e il filato di cotone numero 12 andiamo ad avviare 57 catenelle per iniziare il corpetto del nostro vestitino fin qui direi che la cosa è molto semplice avviare le catenelle no e contarle bene però mi raccomando che siano 57 3 4 5 54 55 56 e 57 queste sono le catenelle iniziali mi raccomando questi primi passaggi facciamo attenzione perché poi dopo sarà tutto più semplice avvicina un l'inquadratura così potete non seguire meglio a partire dalla sesta catenella dall'uncinetto quindi una due tre quattro cinque e sei in questa catenella qua noi andiamo a fare una maglia alta così poi due catenelle e sempre nello stesso punto qui il punto dove avevamo messo la maglia alta ci andiamo a fare un'altra maglia alta ecco e verrà questa questa parte formata da 5 catenelle 3 più 2 una maglia alta 2 catenelle l'altra maglia alta tutto questo sta nella sesta catenella senza contare questa maglia alta qua nelle catenelle successive facciamo 8 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 6 7 7 e 8 maglie alte nella catenella successiva andiamo a mettere il secondo aumento perché il primo sarà questo che abbiamo fatto qui per cui nella catenella appunto successiva vi dicevo mettiamo una maglia alta poi 2 catenelle ancora nella stessa catenella di base un'altra maglia alta 2 catenelle e sempre in quella catenella di base un'altra maglia alta quindi 3 maglie alte nella stessa catenella ok e tra le maglie alte vedete ci sono 2 catenelle quindi questa maglia alta 2 catenelle la seconda maglia alta 2 catenelle la terza maglia alta poi e questo è il secondo aumento del corpetto dell'inizio del corpetto andiamo poi a continuare escludendo questa quindi non contiamo questa 32 maglie alte nelle catenelle che seguono quindi da qui contiamo una 2 2 3 3 e 32 e 32 dopo aver realizzato queste 32 maglie alte dobbiamo fare l'aumento anche in quest'altra porzione quindi facciamo una maglia alta che non contiamo ecco questa è la con quelle che abbiamo appena fatto quindi una maglia alta abbiamo detto che l'aumento è formato da una maglia alta 2 catenelle sempre nella stessa catenella di base un'altra maglia alta poi 2 catenelle e sempre la stessa maglia di base in questo caso la catenella ci facciamo la terza maglia alta quindi una maglia alta 2 catenelle una maglia alta 2 catenelle una maglia alta nella stessa maglia di base nella stessa catenella di base e poi continuiamo facendo 8 maglie alte quindi una 2 7 e l'ultima che è l'ottava la facciamo sulla penultima catenella qui infatti l'ultima catenella ci servirà per andare a mettere il quarto momento così come stavano il primo da questa parte quindi sono 1 2 3 e 4 con questo andiamo a fare per cui noi in questa catenella che è rimasta andiamo a fare una maglia alta poi 2 catenelle 1 e 2 ancora una maglia alta sempre nello stesso punto sempre quella catenella lì ancora 2 catenelle e una maglia alta sempre nello stesso punto per cui nella catenella che era rimasta per cui il l'aumento è formato sempre da il solito modulo ovvero una maglia alta 2 catenelle 1 maglia alta a tutte a tutto questo nello stesso punto solo che all'inizio qui si mettono 5 catenelle che poi non sono altro che 3 che sostituiscono una maglia alta 2 le due catenelle e poi ci sono la maglia alta le due catenelle e la maglia alta tutte tutte queste cose nella sesta catenella dall'uncinetto e abbiamo terminato in questa maniera il primo giro io direi facciamo così senza contare cose ulteriori cioè quante maglie totali e tutto perché non ha senso in quanto questi aumenti tra questi aumenti vi ho detto le maglie che ci devono stare per cui procediamo in questa maniera anzi nei giri successivi vi dirò come regolarsi perché è ancora più semplice perché abbiamo sotto gli aumenti e quindi andiamo sopra gli aumenti con altri aumenti senza stare a fare troppi calcoli e troppe discussioni nel secondo giro dobbiamo andare a fare degli archetti invece in particolar modo sono 25 e questi archetti sono formati da una maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa saltando 2 maglie di base o 2 catenelle che è la stessa cosa quando ci sono le catenelle saltiamo le catenelle quando ci sono le maglie saltiamo le maglie quindi abbiamo detto una maglia bassa però all'inizio la sostituiamo con una catenella così poi 2 catenelle saltiamo o 2 maglie o 2 maglie sottostanti o 2 catenelle in questo caso 2 catenelle e in questa maglia che incontriamo ci andiamo a mettere la maglia bassa ed ecco fatto il primo il primo archetto questo qua non si vede benissimo però adesso lo vediamo meglio quindi ancora 2 catenelle perché la maglia bassa ce l'abbiamo saltiamo queste 2 catenelle qua ci mettiamo l'altra maglia bassa poi 2 catenelle saltiamo due maglie di base questa volta sono maglie alte e nella successiva ci mettiamo la maglia bassa 2 catenelle saltiamo 2 maglie di base 1 e 2 nella successiva la maglia bassa 2 catenelle saltiamo 2 maglie di base questa e questa e nella successiva che è proprio questa dell'aumento ci andiamo a mettere la maglia bassa già da questo vediamo che abbiamo fatto bene, perché ci troviamo proprio prima dell'aumento, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 archetti, poi ancora 2 catenelle, saltiamo queste 2 catenelle, mettiamo una maglia bassa sopra la maglia centrale dell'aumento, così, 2 catenelle, saltiamo le 2 catenelle e nella terza maglia dell'aumento ci mettiamo la maglia bassa, quindi sopra l'aumento ci sono 2 archetti, come c'erano 2 archetti sopra questo aumento qua, e poi continuiamo sempre in quel modo, quindi 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, nella successiva ci mettiamo la maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, nella successiva ci andiamo a mettere la maglia bassa, e così via, fino all'altro aumento. eccoci arrivati all'altro aumento, che sarebbe il terzo, facciamo le 2 catenelle, saltiamo le 2 maglie di base, ci andiamo a mettere qui, sopra la prima maglia dell'aumento, poi facciamo 2 catenelle, saltiamo queste 2 catenelle, e nella maglia centrale dell'aumento ci facciamo la maglia bassa, poi 2 catenelle, saltiamo le altre 2 catenelle dell'aumento, e nella terza maglia dell'aumento noi ci mettiamo la maglia bassa, poi su queste 8 maglie continuiamo come avevamo fatto prima, quindi 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, e qui ci mettiamo la maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, e qui ci mettiamo la maglia bassa, poi 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, e vedete, ci troviamo sulla maglia che precede l'aumento. Adesso un attimo qui, di attenzione, perché era l'aumento quello lì iniziale, quindi noi dobbiamo fare 2 catenelle, poi saltare queste 2 catenelle, e andare con la maglia bassa sopra la maglia alta centrale dell'aumento, 2 catenelle, e poi andare sulla terza catenella, 1, 2, 3, qui, perché praticamente noi come se andassimo sulla maglia alta, sulla terza maglia alta dell'aumento, e ci facciamo questo archetto, in tutto vi ho detto sono 25, perché li ho contati, però non è tanto questo l'importante, sì, è importante, però per vedere che uno non ha sbagliato, ecco, si deve trovare pari con le maglie che sono appunto qui e qui, prima e dopo l'aumento, c'è 2 catenelle, saltare 2 maglie di base, e la maglia bassa deve andare proprio in quella maglia lì, visto che ho fatto il calcolo, se non viene questo, significa che c'è un errore, o comunque qualcosa che non va, perché deve venire così, abbiamo fatto i primi 2 giri, adesso, i giri pari si fanno tutti in questa maniera, ovvero per ora, i giri 4 e 6, perché poi dopo andremo avanti in un altro modo, quindi non li rispiegheremo, mentre il 3, il 5 e il 7 si faranno nel modo che vi sto per dire, e non c'è appunto bisogno di dirvi nient'altro, quindi facciamo insieme il 3, poi voi farete il 4 e come avete fatto il secondo, il 5 come il 3, il 6 come il secondo, il 7 come il terzo, e quindi negli archetti noi dobbiamo andare a mettere una maglia alta sopra la maglia bassa, due maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, e una maglia alta sopra la maglia bassa, ok? in corrispondenza degli aumenti invece dobbiamo fare sempre degli aumenti, quindi sempre una maglia alta, due catenelle, una maglia alta, due catenelle, una maglia alta, nella stessa maglia di base, che sarà quella centrale, ma andiamo a vederlo insieme, quindi abbiamo detto che nell'archetto noi facciamo sopra la maglia bassa, una maglia alta, per cui all'inizio è chiaro 3 catenelle, poi all'interno delle 2 catenelle dell'archetto ci dobbiamo fare 2 maglie alte, quindi una e due, e in tutto sono 3 maglie alte, sopra questa maglia qua ci dobbiamo andare a fare l'aumento, perché vedete è la maglia centrale dell'aumento, quindi dobbiamo metterne un altro in corrispondenza, quindi sopra questa maglia bassa noi ci facciamo una maglia alta, due catenelle, sempre nello stesso punto un'altra maglia alta, due catenelle, e sempre sulla stessa maglia bassa, ovvero qui, ci mettiamo la maglia alta, perché, come vi stavo dicendo, gli aumenti devono trovarsi in corrispondenza degli aumenti sottostanti, per cui necessariamente in corrispondenza della maglia centrale noi costruiamo l'altro aumento, e poi continuiamo tranquillamente, quindi mettiamo 2 maglie alte all'interno dell'archetto, di 2 catenelle, poi una maglia alta sopra la maglia bassa, due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una e due, una maglia alta sopra la maglia bassa, facciamo tutto qua prima di arrivare all'altro aumento, quindi nell'archetto ci mettiamo 2 maglie alte, sopra la maglia bassa ci mettiamo la maglia alta, poi abbiamo ancora un archetto e ci mettiamo 2 maglie alte, una e due, sopra la maglia bassa ci mettiamo la maglia alta, vediamo, siamo in corrispondenza dell'aumento, però noi l'aumento lo dobbiamo fare sopra questa maglia qui, per cui qui ancora mettiamo 2 maglie alte dentro le 2 catenelle, nell'archetto di 2 catenelle, adesso invece dobbiamo fare l'aumento, perché ci troviamo in corrispondenza della maglia centrale, quindi facciamo una maglia alta, poi 2 catenelle, nello stesso punto, eccolo qui, sempre la maglia alta, 2 catenelle, e sempre nella stessa maglia bassa che stava qua, ci mettiamo l'altra, ovvero la terza maglia alta, così mettiamo l'aumento in corrispondenza dell'aumento sottostante di questo momento qui, e poi invece continuiamo facendo le solite cose, quindi 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia bassa, e così via, sempre nella stessa maniera fino all'altro aumento, ok, mi trovo in corrispondenza, vedete dell'altro aumento, eccolo qui, no? questo qui, per cui comincio a pensare, ok, adesso devo fare cose, e rifacciamole insieme, così saranno più chiare, nel primo archetto qui io non devo fare nulla, cioè devo andare a mettere come prima, 2 maglie alte all'interno dello spazio di 2 catenelle, poi in corrispondenza invece della maglia centrale, che è qui, ci devo andare a fare l'aumento, l'aumento del terzo giro, quindi una maglia alta, 2 catenelle, sempre nella stessa maglia di base, un'altra maglia alta, poi 2 catenelle, e sempre nella stessa maglia di base, perché devo portare su questa linea qui, un'altra maglia alta, ed ecco no, l'aumento in corrispondenza dell'aumento sottostante, io credo si veda bene, poi proseguiamo qua con altre 2 maglie alte, ok? Dicevo, spero e penso che si veda bene, e che più di questo, non vi posso dire, in quanto è inutile stare a contare in un'altra maniera, i punti di riferimento sono gli archetti, dove vanno una maglia alta sopra la maglia bassa, 2 maglie alte nell'archetto, e poi sopra l'aumento ci dobbiamo fare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, e una maglia alta, quindi sempre la struttura dell'aumento, quindi la cosa migliore è procedere contando in questo modo, perché è inutile dire che ne so, tipo, devo avere 70 maglie, io ce l'ho, e quindi deve andare bene così, no, perché se queste 70 maglie non le hai nei punti giusti, non va bene, per esempio, vediamo qua, ci sono da fare 2 maglie alte, già ho visto un attimo che qua c'è l'aumento, per cui qui ci devo andare a mettere la maglia alta, le 2 catenelle, la maglia alta, le 2 catenelle e la maglia alta, ho fatto l'aumento in corrispondenza dell'aumento sottostante, per cui vado a terminare facendo 2 maglie alte all'interno dell'archetto, e l'ultima maglia alta in corrispondenza della maglia bassa sottostante, che in questo caso specifico era una catenella, perché era l'inizio del lavoro, per cui quello che ho realizzato sarà questa cosa qui, alla fine del terzo giro, e così noi arriviamo al giro numero, abbiamo detto 7, al settimo giro, che è questo qua, 1, il primo, poi quello degli archetti 2, il terzo, il quarto degli archetti, il quinto, il sesto degli archetti, e il settimo è l'ultimo giro, che si fa esattamente come il terzo e come il quinto, eccoli gli aumenti sopra gli aumenti, si vedono bene, sono questi qua, formati da una maglia alta, due catenelle, una maglia alta, due catenelle, una maglia alta, ce ne sono, 1 nel primo giro, 2 nel terzo giro, 3 nel quinto giro, e il quarto nel settimo giro, ci sono 4 aumenti, così come qui, come qui, che nel frattempo, ecco, questa parte è cresciuta in questa maniera, perché poi il vestitino si vedrà in questa maniera, per cui, ecco qua la parte della raglande, la manica in poche parole, e questa è la parte rettilinea del corpetto, che poi dovrà invece andare a fare la V, e va bene, questo ci penseremo da qui in poi. Fino al settimo giro, noi siamo in questa situazione semplicissima, è tranquillissima, io direi, tranquilla, almeno, come vi dicevo prima, per un livello medio, di difficoltà. Bene, ho realizzato 8 giri in tutto, li possiamo contare, va bene, dopo le catenelle, questo è il primo, a maglie alte, poi c'è quello con gli archetti, quindi 1, 2, ancora maglie alte, 3, archetti, 4, maglie alte, 5, archetti, 6, maglie alte, 7, archetti, 8, quindi sono appunto 8 giri, e sono arrivata qui, da dove avevamo lasciato, che è appunto, che sono, che erano appunto questi primi 3 giri, quindi 1, poi gli archetti, e poi le maglie alte, dove abbiamo imparato ad aumentare, e tutto, insomma, tranquillo, lì, basta, abbiamo finito, e siamo dunque arrivati fin qui. cosa dobbiamo fare da qui in poi? Allora, questa è la parte dietro del corpetto, quindi la dovete vedere così, cioè, o meglio, se noi guardiamo il vestitino, dalla parte anteriore, ok, questa è la porzione delle spalle, questo è il dietro, eh, e questa è parte del davanti, perché adesso, la parte rettilina è il davanti, perché adesso, perché adesso dobbiamo fare, lo scollo a V, eh, dobbiamo continuare, sul dietro e sulle spalle, in maniera normale, e, cioè, sempre in maniera rettilinea, mentre sul davanti, dobbiamo andare, a costruire la nostra V, in maniera rettilinea, quindi, Grazie.